Iscrizioni aperte per la superclassica sulle piste di confine tra la provincia di Sondrio e quella di Brescia, che quest'anno andrà in scena martedì 16 gennaio con una doppia valenza oltre al classico raduno scialpinistico aperto ad agonisti amatori. La diciottesima stranunata sarà inoltre gara by night dei Winter World Master Games Lombardia 2024 a decretare i vincitori. Sarà la famosissima superpanoramica del Baradello con start in paese a 1160 metri sul livello del mare e arrivo al rifugio del Brusca a 1980 metri dopo aver risalito 5,5 km della pista illuminata più lunga d'Europa. Anche quest'anno un riconoscimento particolare è riservato agli specialisti delle Only Up grazie alla combinata con la sfida podistica Mela Vertical. Questo speciale ranking andrà a premiare le tre migliori performance maschili e femminili sommando i tempi di chi ha partecipato a entrambe le gare. Tornando alla stranunata i tempi da battere sono quelli del 2023 di Alex Rigo 36 minuti e 16 secondi e Samantha Bertolina 45 minuti e 22 secondi.